A volte il problema non c'è. Ve lo racconto in questa storia. Nel mio studio, per la prima volta, tiene una giovane, una ragazza di circa 20 anni, e mi racconta questa storia, che la psicologa le ha detto che soffre di dipendenza affettiva. Però lei non ha voluto continuare con questa psicologa perché non si trovava bene. Va bene, cose che capitano. Io osservo una ragazza sobria nel suo aspetto, abbastanza vestita bene ma senza esagerare, comunque curata, non troppo e non troppo poco, e ha un modo di parlare un po' ansioso. Le chiedo di raccontarmi di questa storia di dipendenza affettiva. E lei mi racconta che con il suo fidanzato le cose non andavano bene, si sono lasciati, ma non la vedo sofferente. Le chiedo qualche notizia sulla sua vita, mi dice che abita da sola ma non ha mai convissuto con questo ragazzo. Quindi ci tiene a essere autonoma, i suoi genitori l'hanno aiutata, comunque mentre studia lavora anche e riesce a mantenere questo piccolo appartamento. Attualmente non ha un fidanzato, vive da sola, ha degli amici, va bene. Una situazione normale. Le chiedo ma come vi siete lasciati? E lei mi risponde, l'ho lasciato io perché dopo qualche mese, insomma non valeva più la pena di andare avanti, io non vedevo più a che cosa mi servisse. E qui si accende la prima lampadina. Ma come? Se una persona soffre di dipendenza affettiva non lascia l'altro. Quindi se l'ha lasciato lei vuol dire che non ha avuto incertezze o paura di rimanere da sola né di essere abbandonata, anzi ha fatto lei il primo passo. La seconda osservazione è che vive da sola, quindi non ha paura di non avere una relazione al momento. Una persona che soffre di dipendenza affettiva non riesce a stare da sola, cerca sempre qualcuno che gli faccia un po' da specchio, che gli dia un'identità. In più questa ragazza manifesta di sapere cosa le piace, ha preso delle decisioni nella sua vita. Ecco, una persona che soffre di dipendenza affettiva questi tratti non li ha. Quindi dal mio punto di vista questa ragazza non soffre di dipendenza affettiva. C'è un problema, l'ansia. Ma io la capisco quest'ansia, perché se qualcuno mi ha detto che sono malato, un po' di ansia mi viene. A volte il problema non c'è, qualcuno te lo crea. In questo caso è stata una psicologa, ma potrebbe essere chiunque altro, non importa. Il fatto è che tu non avevi i problemi, vivevi serenamente e poi qualcuno ti ha creato il problema. Questa ragazza non soffre di dipendenza affettiva. Potrebbe soffrire di qualsiasi altra cosa, non importa, ma non soffre di dipendenza affettiva. Il problema non c'è. Pesaci.